Dieci commissari per altrettanti circoli del Partito Democratico pugliese si insedieranno nelle prossime ore e hanno tra le mani la delega firmata dal segretario regionale Domenico De Santis. È l'atto finale del congresso che metterà fine entro l'estate e forse anche prima a strasciche incompiute della competizione interna IDEM. Non un'unica motivazione infatti alla base del provvedimento. A Nardo e Gravina per esempio non sono mancate tensioni a colpi di ricorsi tra le due mozioni e così le chiavi finiscono nelle mani di Andrea Russo e dello stesso De Santis, esattamente come a Grumo Appula. In alcuni casi nascono ufficialmente circoli che non c'erano. A Monte Iasini e al Tarantino sarà la neosegretaria provinciale Anna Filippetti a tenerlo a battesimo. A Oria e San Michele Salentino invece il taglio del nastro spetterà al riconfermato segretario provinciale brendisino Francesco Rogoli. A Grottaglie e Manduri invece si rischia di avere un PD di lotta e di governo allo stesso tempo? Bicefalo insomma. Nel primo caso articolo 1 in maggioranza, ma i DEM no e ora che sono un unico partito dovranno scegliere. Stessa questione pur a parti invertite e con il sindaco in avvicinamento al partito DEM a Manduria. La questione San Ferdinando era già finita sul tavolo della Commissione Nazionale mentre spetterà al neosegretario dell'area metropolitana Pino Giulitto chiudere il derby di Bitetto nel Barese. Due candidati e il risultato finito in pareggio 21 a 21 e così si deciderà i supplementari, chi terrà le chiavi del circolo.